La visita d'insieme alla Regione Mediterranea è iniziata il 31 luglio 2017 presso la Casa Generalizia dei Salesiani di Roma, con la partecipazione di Don Angel Fernandez Artine, Rettor Maggiore, di alcuni membri del Consiglio Generale e di 97 Salesiani, tra cui gli Ispettori e i membri dei Consigli Ispettoriali delle Ispettorie della Regione. Don Francesco Cereda. La visita d'insieme che oggi iniziamo ci chiama a vivere un'esperienza di unità nella diversità. Dopo aver accolto con favore tutti i partecipanti, il Rettor Maggiore, durante un lungo dialogo con i Salesiani, ha spiegato la situazione e le ragioni dell'abbandono della Casa Generalizia di Roma, per il bene della congregazione. La sua condivisione ha scaturito un caloroso applauso dei partecipanti, che è durato molto tempo. Grazie anche per questo applauso. Io capisco che per tutti noi e per il lavoro veramente, la comunione del Consiglio, volevo sottolineare anche questo. davvero che quello più prezioso per me è stata la grande comunione e unità tra di noi. Allora, cari confratelli, un'altra volta, buongiorno, buenos dias, bon dia, sabato e buon dia. Do Stefano Martoglio, consigliere per la Regione Mediterranea, che coordina la visita d'Insieme, ha dato alcuni dati statistici sulla Regione e ha sottolineato alcune delle sfide che la Regione ha affrontato, come la qualità della vita religiosa, la necessità di una maggiore visibilità e la formazione dei Salesiani. La parola autorevole, appassionata e decisa del nostro padre, decimo successore di Don Bosco, sta rendendo davvero entusiasmante l'esperienza e ci sta prendendo nuovi orizzonti, una nuova visione per vivere al meglio la nostra missione salesiana nella Regione Mediterranea. La visita d'Insieme è un'esperienza meravigliosa perché ci dà la possibilità di sentire il pulsare della nostra congregazione, di condividere la nostra fraternità e di puntare sull'essenziale, come il retor maggiore ci dice. I lavori sono proseguiti nei giorni successivi con gli input di alcuni consiglieri generali e ispettori, seguiti da discussioni di gruppo, condivisioni e deliberazioni comuni. Sono molto contento di questa prima visita d'Insieme, di questa neonata Regione Mediterranea, proprio perché la prima volta abbiamo respirato un clima di grande condivisione e anche di fiducia. Gli incontri si sono alternati con momenti di preghiera, tradizionali buone notti, condivisione fraterna e relax. Grazie a tutti. L'incontro è terminato il 3 agosto con il discorso conclusivo del rettor maggiore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.